Le impressioni discrete, nel senso che questa squadra ha lavorato, ha lavorato tanto, mi rendo conto che trascinano le gambe e quindi per me è normale. Loro forse non erano abituati, quindi in queste condizioni a me serviva più per vedere se riescono a fare movimenti, due o tre movimenti che ci chiedo io. Non lo so, io vorrei andare in 28. E gli altri, diciamo, allevamenti, puoi anche lasciarli a casa? No, si possono allenare a parte o appoggio. Ma è purtroppo, io intanto da Juventus non voglio parlare più perché quando ne parlo bene non esce, e quando ne parlo, che poi non ne parlo io, ma sono affermazioni di giornalista che ha fatto lui e poi casco io. Quindi io da Juventus non parlo più. Ma sorpresa, no? Io penso che, a parte che molti ragazzi che sono arrivati, per me, tecnicamente, sono validi. Poi, ripeto, con il lavoro che abbiamo fatto è difficile esprimere tutte le qualità. Però, io penso che cresceranno, poi, i vecchi li conosco, penso che anche loro conoscono me e dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Però non voglio fare i nomi e i cognomi. Io dico che si sono applicati tutti sul lavoro. Oggi era importante, era la nostra prima vera uscita ufficiale, ufficiale nel senso contro una squadra importante, da dieci giorni di lavoro, quindi era anche normale tutto questo. Ho notato delle buone cose, come altre meno. Però siamo qua apposta per cercare di lavorare e migliorare quelle lacune. Ma è piaciuto come sono stati in campo, sia il primo che il secondo tempo. Una squadra che mi fa piacere, che è rimasta nei 40 metri, in zona a palla ogni volta. E questa è una cosa positiva. Diciamo che erano sempre abbastanza legati in base alla palla. Stiamo lavorando molto in riferimento della palla degli avversari. E quindi tutti si sono mossi molto bene. Siamo ripartiti, lì dobbiamo farlo ancora meglio. Però questa è una cosa positiva. E comunque era già un clima di partita vera. C'era già questa voglia di voler cercare di fare bene. Anche se amichevole, con me non ci sono amichevoli. Anche le partitine vanno giocate per vincere. Loro incominciano a capirle. E quello deve essere l'obiettivo da qua alla fine.